Immagini per il suo intervento? Intanto Napolitano, io voglio esprimere tutta la mia solidarietà a Napolitano perché Napolitano anche nella scorsa legislatura credo che non avesse più voce non è che la legge la fa Napolitano, la legge la deve fare il Parlamento e Napolitano ha ripetuto in tutti i modi possibili e immaginabili nella scorsa legislatura e ancora in questa ho visto che oggi ha fatto una dichiarazione dicendo se fosse per me gli darei sette giorni io sono molto meno ambizioso per il Presidente della Repubblica mi sarei accontentato che fosse rispettato il termine di un mese che è quello assegnato quando si chiede l'urgenza come è stata chiesta al Senato per un testo di legge, quindi purtroppo la situazione è quella che abbiamo sotto gli occhi la Corte Costituzionale bisogna vedere innanzitutto se interverrà se dichiarerà immissibile o no il quesito posto dalla Corte di Cassazione e poi su che cosa interverrà, è chiaro che siamo un Paese che la giustizia ce la deve fare la Corte Europea con le sue sentenze la riforma elettorale ce la deve fare la Corte Costituzionale con le sue decisioni e magari alcune leggi sui temi sensibili, fecondazione assistita o su altro ci debbano pensare i tribunali, questa è la situazione nella quale siamo e questa purtroppo è la capacità di azione politica di questa classe dirigente e questa è la situazione della Corte Costituzionale con le sue sentenze